È rimasta distesa a terra sull'asfalto in una pozza di sangue, travolta da un furgone di cui si sarebbero perse le tracce. È accaduto stamattina attorno alle 11.30 in via Madonna Marina Sottomarina. La vittima, una ciclista di 63 anni residente a Chioggia. Le sue condizioni sarebbero gravissime, con fratture in tutto il corpo, schiacciamento delle costole e trauma cranico. La donna è stata trasportata ad urgenza in elicottero all'ospedale di Mestre, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Ma ora è caccia all'investitore. Secondo le prime ricostruzioni, ai lati del cassone del camion, il nome di una ditta a chiare lettere è l'abitacolo di colore rosso. Il conducente del mezzo pesante avrebbe sormontato il corpo della sventurata, per poi abbozzare una frenata. Non è chiaro se la donna è caduta perché urtata da quel furgone o a causa di un'improvvisa perdita di equilibrio. Per ricostruire l'accaduto e raccogliere testimonianze fondamentali che possano permettere di dare un volto e un nome al pirata della strada, sul posto sono accorsi gli uomini della polizia municipale. In appoggio anche una squadra di vigili del fuoco, che hanno aiutato a mettere in sicurezza l'area.